Hanno fatto il loro ingresso negli uffici postali di piazza San Francesco a Giarra e stamani intorno alle 9, circa un'ora dopo l'apertura. Due malviventi con il volto nascosso da sciarpe e berretti hanno raggiunto gli sportelli e sotto la minaccia di una pistola, non si sa ancora se giocattolo, hanno costretto i dipendenti a consegnare la somma custodita nelle rispettive casse. A quell'ora i contanti disponibili non erano tanti, i rapinatori sono riusciti a raggranellare circa 2000 euro. Con il bottino in mano sono poi fuggiti via dopo pochi minuti a bordo di uno scooter facendo perdere le proprie tracce. Scattato l'allarme sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarra che hanno anche disposto le ricerche dei fuggiaschi. Nel frattempo i militari hanno raccolto le testimonianze dei presenti. All'interno delle poste a quell'ora c'erano anche numerosi utenti. Nessuno avrebbe visto in volto i malviventi dei quali sarebbe stata fornita una descrizione della corporatura fisica. Pochi al momento gli elementi utili per la loro identificazione. Acquisiti anche i nastri del sistema di videosorveglianza dai quali gli investigatori sperano di trarre qualche indizio. Le poste centrali sono rimaste chiuse a lungo e numerosi utenti hanno dovuto ripiegare su altri uffici del territorio.